Il fuffa guru che fa disinformazione. Nel web è pieno di fuffa guru che fanno disinformazione persone incompetenti che si mettono in cattedra come se fossero delle persone competenti del settore tipo psicologi, psichiatri, che poi abborriscono queste persone nel senso che per loro gli psicologi e gli psichiatri sono come degli esorcisti però si pongono dando consigli nella medesima situazione. La cosa devastante direi è che magari hanno al seguito tante persone tante persone che in realtà basano la loro cultura ascoltando queste figure che diventa una figura di riferimento, il fuffa guru e si riempiono di un sacco di cavolate, senza senso. È una cosa da non sottovalutare e quindi non sottovalutate le persone che fanno disinformazione perché sono quelle che parlano di cose che non sanno che parlano di narcisismo, di malattie mentali e hanno tantissime stigma hanno una mentalità gretta e meschina da troglodita sono omofobi, misogini parlano appunto di orientamento di genere di mascolinità, di femminilità che è solo tossica quindi sono persone tossiche che parlano di mascolinità tossica sono proprio l'emblema del patriarcato ignorante e stereotipato che hanno comunque la facoltà tramite il web di fare disinformazione allora io consiglio a tutte le persone di non seguire questi individui ma soprattutto di segnalarli perché sono un danno per la società mentre oggi abbiamo bisogno di cultura abbiamo bisogno di istruzione abbiamo bisogno di psicoeducazione queste persone sono le persone più marce che possiamo trovare nel web quindi se vi interessa un argomento vi consiglio di seguire una persona competente una persona che abbia un titolo accademico che abbia comunque un titolo accademico che gli consente di dire delle cose intanto medico-scientifiche e non buttate campate in aria dettate dalle loro emozioni perché diventano poi delle persone tossiche che distribuiscono tossicità anche agli altri senza un reale arricchimento personale quindi se vi interessa un argomento specifico seguite delle persone competenti non seguite i fuffa guru che non sanno niente che poi sono pure quelle persone che non solo non sanno niente non sanno gestire loro stessi e li vediamo in modo plateale manifestarsi anche nel web in situazioni pessime e penose dove è evidente al mondo intero che sono in uno stato delirante depressivo e alterato mi raccomando scegliete bene i canali di informazioni cioè sappiate selezionare bene affidatevi a delle persone competenti se volete arricchire le vostre conoscenze non riversatevi in persone grette meschine probabilmente narcisiste probabilmente anche malati psichiatrici non diagnosticati o che si sono diagnosticati e si curano di nascosto e che poi buttano palate di cacca alle persone che comunque nel tempo hanno sempre mantenuto un equilibrio emotivo mentre loro si sono anche manifestate nel web in modo palesemente delirante che anche una persona che non sa ne leggere né scrivere capisce che questa persona è altamente disturbata iscrivetevi al canale di amore psiche con la pink mi raccomando selezionate selezionate e non rivolgetevi a quei fuffaguro che fanno solo disinformazione ciao a tutti ciao 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 ciao